Restauro della chiesa di San Giacomo a Como, terminata la prima fase di interventi partita lo scorso mese di gennaio. I lavori si sono concentrati all'interno della chiesa, in particolare sulla struttura linea, della copertura e sulle opere d'arte. Sono stati dunque realizzati una serie di scavi utili per identificare con sicurezza le opere necessarie per la dotazione impiantistica e per accrescere la conoscenza della storia dell'edificio. La chiesa infatti ospita alcune delle opere più significative del futuro museo della cattedrale. Per quanto riguarda dunque le opere d'arte presenti è stato necessario un lungo lavoro di protezione di quelle inamovibili. Tra le sorprese fa sapere l'ufficio stampa della diocesi di Como e probabilmente non sarà l'unica la scoperta di un affresco inedito, dietro la secentesca pala d'altare con la crocifissione attribuita al Montalto. Il dipinto morale mostra le tracce di una crocifissione appartenente alla chiesa precedente al rifacimento barocco. D'intesa inoltre, con la soprintendenza, lo scorso mese di ottobre è stato approvato anche il progetto esecutivo degli interventi sull'esterno della parte absidale ed alcuni dettagli esecutivi relativi alla zona delle sacristie. Il restauro della Basilica di San Giacomo spiega Don Andrea Straffi dell'ufficio diocesano Arte Sacra è una delle imprese più complesse e importanti che la diocesi di Como abbia affrontato negli ultimi decenni. Per questa ragione si è individuato un comitato di esperti per affrontare le diverse problematiche dell'intervento. Grazie. 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 Grazie.